Salviamo l'ospedale per chi vive a Venezia. Appuntamento sabato mattina davanti al civile Santi Giovanni Paolo per una manifestazione. Vediamo. Lo spopolamento della città va a braccetto purtroppo con il depoperamento del sistema sanitario locale veneziano che fino a poco tempo fa poteva essere sostenuto anche dalla massa turistica, ma adesso non c'è più nessuno e siamo preoccupati perché siamo pochi. Noi vogliamo che il nostro ospedale civile sia funzionante e funzionale. Per questo molti residenti sabato mattina alle 11 parteciperanno a una manifestazione organizzata da Venezia.com davanti all'ospedale civile. Siamo convinti che oggi l'ospedale civile di Venezia funziona se funziona il territorio. Noi abbiamo adesso, secondo le schede della regione Veneto, 15 primari a tempo pieno e 18 primari significa che lavorano a mestre e quando hanno tempo si fanno una passeggiata a Venezia. Esiste una specificità veneziana che attiene alla morfologia, che attiene alla demografia. Il problema di Venezia è logistico. Qui abbiamo degli spostamenti che vanno fatti in maniera diversa, specifica e sono più difficoltosi di una normale città con le macchine perché siamo in acqua e quindi un trasporto eventuale di un malato in laguna assume sempre una diversità e una difficoltà. La preoccupazione dei cittadini è tanta, così come la speranza di essere ascoltati nuovamente. Già due anni fa, in virtù di questa mobilitazione, la regione addirittura voleva chiudere l'ospedale e invece in virtù di un grande movimento siamo riusciti a salvare l'ospedale. Adesso invece bisogna preoccuparsi dei contenuti sanitari all'interno.